benvenuti in casa Cassandra allora questo sarà un get ready with me o un mi preparo con voi perchè praticamente devo andare al lavoro e quindi ho pensato di registrare appunto un postiglio inizio sempre con la crema che uso ormai e che penso di star quasi terminando e sarebbe quella dell'equilibra l'aloe vera al 40% questa è idratante e protettiva niente mi sto preparando perchè appunto devo andare al lavoro e ho un po' di tempo per registrare questo video e poi perchè comunque è da tanto che non non lo faccio in realtà non è che avrei chissà quali cose da raccontarvi però volevo un po' farvi vedere più che altro alcuni prodotti che ho comprati nell'ultimo periodo e che ancora non vi ho mostrato ho applicato appunto la crema vado a uniformare le mie occhiaie con la BB cream non la uso su tutto il viso non la uso su tutto il viso perchè ancora non mi va non dico che c'è ancora caldo come prima però diciamo che non non mi va di applicarla su tutto il viso la vado applicando nei punti quelli diciamo un po' più critici e non so se voi lo sapete ma uso questa qui della Garnier ed è quella per pelli grassi e misti ed è il colore chiaro sembro un mostro e poi vado ad applicare il correttore della WICON con il quale non mi ci trovo completamente però diciamo che lo vado ad applicare più che altro per terminarlo non per altro non mi piace perchè penso che sia più che altro la consistenza che non non si adatta al mio tipo di pelle avevo letto su non mi ricordo dove forse su facebook di altre ragazze che appunto parlavano dei correttori WICON e anche loro dicevano che non non si ci trovavano però come potete notare le mie occhiaie non vengono coperte come come si dovrebbe insomma infatti mi tocca fare più strati proprio per questo motivo l'occhiaia rimane lì dove infatti vado ulteriormente a mettere il correttore lo metto però solo qua perchè sono ancora non dico abbronzata però sono ancora un po' scuretta per il correttore della della Maybelline il cancelletà col quale mi ci trovo buonissimo è addirittura il terzo che ricompro lo faccio asciugare leggermente perchè sennò poi non non copre come dovrebbe do una pettinatina alle mie sopracciglia comunque come potete notare le occhiaie soprattutto qui che sono un po' scuretta sono rimaste però pazienza adesso vado ad applicare il come si chiama il sublime sun della L'Oreal con il quale devo dirvi mi ci trovo abbastanza bene non l'ho usato per tutto il periodo estivo perchè quando ero abbronzata non è vero che si andava uniformando a ogni tipo di incarnato perchè ho notato che con l'abbronzatura se lo applicavo mi sbiancava alquanto quindi anche se c'è scritto che si diciamo si adatta a ogni tipo di pelle a ogni colore non è proprio così oggi visto che ho un po' di tempo mi toccherò un po' più diciamo articolata perchè la mattina ormai ho il mio make up da battaglia quello che riesco a fare in pochissimi minuti che se volete avevo pensato di girarlo l'avevo veramente già girato la settimana scorsa ma come al solito c'è qualcosa sempre che non va e infatti non ero riuscita a editarlo adesso metto questo ombretto che è abbastanza luminoso e questo bellissimo colore diciamo un bianco perlato e questo qui è dell'avril che devo dirvi dura in maniera esagerata vabbè forse col dito è meglio il pennello non riesce a prendere bene il prodotto come potete notare oggi metterò quella maglietta oggi vado di rosso sicuramente avrete notato dal mio ultimo video ho cambiato cioè ho fatto una sottospecie di chiamiamolo chatouche ma io volevo un ombre hair ma con la diciamo con la parrucchiera non ci siamo ben capite in realtà non sono stata in parruccheria ma è venuta la parrucchiera a casa perché non avevo proprio tempo di prenotare tutte queste cose qua quindi siccome sapevo che comunque lei era brava volevo farmelo fare a casa ma mi sono resa conto che forse era meglio andare in parruccheria per fare una cosa del genere anche perché diciamo che la parrucchiera che viene a casa è da tempo che non lavora più in parruccheria e quindi penso che non segua più dei corsi quindi non era poi tanto aggiornata sto mettendo il come si chiama la terra come se fosse appunto come colore di transizione ultimamente non so perché ma uso questo spessissimo adesso con un pennellino angolato vado ad applicare il mio nuovo eyeliner in gel questo è la Kiko che ho preso tre settimane fa se non addirittura quattro ed è l'eyeliner in gel che io ho trovato con lo sconto tant'è vero che l'ho pagato 3,90€ invece i 7€ se non mi ricordo male ho applicato l'eyeliner senza riprendermi perché è già un'impresa mettermi l'eyeliner figuriamoci mentre parlo comunque non riuscirò mai a fare una riga uguale in entrambi gli occhi però devo dirvi che dato che sono diciamo una capra si può dire sì in queste cose eyeliner è altro io nel frattempo guardo in basso perché non trovo il piegaciglie niente volevo dirvi che comunque l'eyeliner in gel penso sia molto più semplice da applicare rispetto a un eyeliner in penna poi quelli che avevo ormai sono terminati infatti li vedrete a breve in un video dei dei prodotti terminati quindi vi lascio immaginare un po' allora adesso vado ad applicare il mascara bianco della Essence il Lush Base e applicherò un altro mascara che è sempre nuovo della Essence il Big il Get Big Lashes lo applicherò molto in fretta perché prima che si asciughi questo devo già mettere quello nero quindi lo vado già ad aprire e io non ho queste grandi ciglia o meglio sono lunghe il problema è che non si incurvano in nessun modo pur piegando appunto le ciglia ma l'incurvatura è quella che è quindi lasciamo perdere però devo dirvi che alla fine questi due prodotti insieme mi piacciono come mi fanno le ciglia il bianco soprattutto devo dirvi che separa abbastanza bene cioè le rende abbastanza separate mentre l'altro il nero è un bel nero è molto meglio secondo me del mascara il penultimo che avevo comprato quello della se non mi ricordo male è sempre della Maybelline che era questo qua sì il colossal che è stata una colossale delusione perché a me i mascara della Maybelline sono sempre piaciuti tutti ma questo fa proprio pena comunque vado a enfatizzare ancora di più la piega dell'occhio quindi voglio andare di matita nera nell'arima inferiore però per metà non nel condotto la vado un po' a sfumare ok fatto questo vado di contouring sì quale contouring io sono negata per il contouring vado semplicemente a scurire il viso con la terra quella che avevo fatto vedere prima l'unica terra tra le altre cose che ho perché io non ho tutti questi grandi prodotti di make up anzi ho sempre gli stessi non lo so perché la terra sarà che mi basta questo onestamente non sono questa collezionista di trucchi ho il minimo indispensabile i maggiori prodotti che uso i rossetti ma uso sempre gli stessi ecco fatto adesso prendo sempre della Debbie questo è il blush experience numero 04 questo colore qui solo che siccome è abbastanza pigmentato vado con questo pennello che è già sporco del prodotto e vado a colorarmi videocamera sembra che mi sono proprio buttata chissà quanto colore in faccia ma dal vivo non è così non ci fate caso vi assicuro che dal vivo non sono così sparaflesciata non ho le gote così scure vado di correttore di nuovo nelle occhiali perché mi si vedono proprio in maniera atroce li metto solo qua li metto solo qua vado sempre con le cancellette nel frattempo scelgo per mettermi sulle labbra allora no non mi piace volevo mettere il real town dicevo che vado ad applicare appunto questo colore scuro ma che andrò leggermente a sfumare adoro questi prodotti tempo fa vi avevo fatto vedere quest'altro che come potete notare già è bello usato ce n'è un bel po' ancora però devo dirvi che vale la pena acquistarli perché intanto non costano chissà quanto e poi vabbè ora mi sistemerò anche con il coso come si chiama con il cotton fioc perché mentre parlo è un nosh volevo dirvi che sono facili da applicare anche se non sembrerebbe ma quando si gira magari un video si combinano da anni perché si parla mentre uno si trucca non è molto normale comunque poi perché se il prodotto è vero che comunque è morbido e col passare delle ore se ne va però non è come quei rossetti che magari si è andato e rimane il bianco qua al centro cioè è come se le labbra fossero colorate però in maniera naturale allora questo è il look finito e alle orecchie ho queste orecchine carinissime di Ejanem alla fine ho fatto questa sottospecie di acconciatura mi viene da ridere perché praticamente ho il bastone dei selfie e non so come tenerlo per farmi vedere meglio per adesso ce la posso fare per adesso ho dei semplici sandali molto comodi con un pochino di tacchetto però stasera userò queste scarpe che anche se non hanno questo tacco chissà di quale dimensione però diciamo che è un'altra zona proprio comodissima vediamo se riesco a mettermi così ecco questa è la maglia se così si vede di questo bellissimo color rosso che avevo fatto vedere un bel po' di tempo fa poi indosso i jeans e questo lavaggio chiaro le scarpe sarebbero queste con i fiori non so se si notano noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video ciao